Ben ritrovati nella redazione della Voce dei Berici ai telespettatori di Terechiara per il nostro consueto appuntamento con i temi principali che affronteremo nel prossimo nostro numero. Chi ormai ci conosce sa che la Voce dei Berici si apre sull'attualità e nel prossimo numero considereremo il tema del turismo nel Veneto e della discussione che c'è in atto rispetto alla nuova legge regionale e su questo avremo anche un'intervista con l'assessore Finozzi. Quindi considereremo sempre relativamente all'attualità il tema del federalismo e le nuove tappe che attendono il Parlamento al riguardo e quello che è l'impegno che le regioni stanno portando avanti per ridurre i costi e quindi per attuare i tagli indicati dal governo. Tagli che sappiamo bene molto impegnativi per tutti. Quindi il mondo si concentrerà in particolare sull'Europa, la Grecia e per quanto riguarda invece il resto del mondo chiaramente avremo anche uno sguardo su quanto sta accadendo in Egitto e nei paesi limitrofi. La prima di cronaca invece sarà dedicata a Vicenza città universitaria e questa è una realtà molto importante oramai per il capoluogo ma anche per tutta la provincia e cercheremo di vedere cosa questo significa sui vari profili. Avremo poi le pagine di cronaca con molte notizie dal territorio sia per quanto riguarda la vita delle nostre comunità parrocchiali sia per quanto riguarda la vita delle comunità civili dopodiché le pagine di rubrica solite, comunque importanti perché danno ulteriore qualità al nostro settimanale. Vi aspettiamo quindi e vi aspettiamo anche per eventuali vostre osservazioni, idee e critiche nella pagina delle lettere del direttore. Arrivederci e grazie.